Siamo sempre qui, anche durante l'annuale forum Ambrosetti abbiamo assistito agli strali contro il reddito di cittadinanza, ovviamente basandosi sempre su una visione pervertita della realtà e ovviamente fottendosene bellamente dei dati. Sia chiaro, il reddito di cittadinanza è una legge che come tutte le leggi è migliorabile se non addirittura sostituibile con misure più efficaci. Il punto sostanziale però rimane sempre lo stesso, gli imprenditori che sono contro i sussidi ai poveri vedono come unica soluzione quella di deviare i sussidi ai ricchi e loro chiaro si credono i ricchi, quindi sostanzialmente vorrebbero intascarsi i soldi dei poveri con la promessa di ridistribuirle. Sì, ciao. Il colpo grosso l'ha lanciato Giorgia Meloni che sarebbe l'autentico Salvini di cui preoccuparsi più di Salvini, ma tardiamo a rendercene conto con il suo paragone tra reddito di cittadinanza e metadone, roba da brividi se dalle nostre parti ci fosse ancora un minimo senso della decenza e della misura. Ma del resto vince chi urla l'urlo più urlato e Meloni sa bene come conquistarsi qualche titolo sui giornali che mandi in solluchero i suoi tifosi. Poi è arrivato il presidente di Brembo che ci ha deliziato dicendo «Certo che credo alla gente che preferisce prendere il reddito e stare sul divano piuttosto di lavorare». Ha raccontato di aver incontrato agricoltori in vacanza, ovviamente, che si lamentano di non trovare chi raccoglie pomodori e angurie a causa del reddito. Poi ovviamente ci ha detto che non si trovano lavoratori stagionali, riprendendo un refrain che ormai funziona tantissimo. Del resto, già il 14 maggio di quest'anno, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, uno che ogni volta che apre bocca accende l'incresciosa domanda del perché non stia in una parte politica più consona al suo bullismo politico, disse «Alcune attività non apriranno perché non si trovano più camerieri, non si trova personale stagionale, è uno dei risultati paradossali dell'introduzione del reddito di cittadinanza». Peccato che l'affermazione sia completamente falsa, proprio falsa, e lo certificano i dati amministrativi dell'Inps che raccontano tutt'altra realtà. A maggio sono stati attivati la bellezza di 142.272 rapporti di lavoro stagionali. Sono quasi il doppio rispetto al 2017, sono 50.000 in più rispetto al 2018, prima dell'introduzione del reddito di cittadinanza, sia rispetto al 2019. Una ricerca d'archivio conferma che si tratta di un record da almeno 8 anni a questa parte. E di solito il boom degli stagionali si registrava a giugno, all'inizio della stagione estiva, mentre quest'anno è arrivato addirittura in anticipo. Il saldo annualizzato, ovvero la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro negli ultimi 12 mesi, ha fatto registrare una crescita pari a più 560.000, frutto di un saldo positivo dei contratti stabili, che sono 134.000 in più, quelli a tempo determinato, che sono 169.000 e in somministrazione, che sono 110.000, stagionali 91.000 e intermittenti più 8.000. Del resto Riccardo Illi, con evidente onestà intellettuale, dice che i dati sono chiari, l'incidenza del reddito sulla carenza di manodopera è praticamente nulla. E l'imprenditrice Luisa Todini, che opera tra l'altro nel settore turistico alberghiero, riconosce che, se sommiamo, dice, la disponibilità del reddito di cittadinanza all'interesse di molti imprenditori di pagare i lavoratori in nero, la miscela diventa esplosiva. Nessuno, invece, ha la santa pazienza di chiedere ai nostri imprenditori come sia successo che negli ultimi dieci anni siamo passati da 400 contratti ai 980 di oggi, pseudocontratti che sono stati utili per parcellizzare i diritti, sostanzialmente anacuandoli. Come ricorda Pasquale Angius, nel 123 a.C., nell'antica Roma, il tribuno della plebe Gaio Sempronio Gracco fece approvare una legge che obbligava lo Stato a fornire, a un prezzo fisso molto basso, di 6 assi e un terzo, a ogni famiglia grano sufficiente per produrre ogni mese 45,3 kg di pane, all'incirca un chilo e mezzo al giorno, solo per dire come le misure di sostegno al reddito esistono da sempre, nonostante questi fingano di non saperlo. Sarebbe anche utile ricordare che entro il primo anno e mezzo dall'introduzione del reddito di cittadinanza, 1 su 4 dei beneficiari avevano trovato lavoro, il 65% di loro a tempo determinato. Lo ripetiamo ancora una volta, che le misure di contrasto alla povertà siano cosa diversa dalle politiche attive per il lavoro lo sanno anche i sassi, ma che le une debbano pagare le altre è qualcosa che grida vendetta. Anzi, si potrebbe anche notare quanta poca attenzione venga data al fatto che i limiti per i cittadini non italiani invece siano fin troppo stringenti e qui sento già le unghie del non sono razzista ma che graffiano, tenendo conto che un terzo delle famiglie di stranieri residenti in Italia vivono in povertà e tra l'altro in molte di quelle famiglie ci sono dei minori e che la soglia di 10 anni di residenza per accedere al reddito è stato un gratuito regalo a Salvini. Sempre come ricordo a Pasquale Angius, secondo una recente ricerca il 55,2% delle persone che nel 2019 si sono rivolte alla Caritas per ottenere pasti, prodotti alimentari gratuiti, avevano percepito il reddito di cittadinanza. Questo dato ci dice sostanzialmente che chi percepisce quel beneficio appartiene a categorie sociali estremamente vulnerabili e spesso le poche centinaia di euro del reddito non sono sufficienti, soprattutto per le famiglie più numerose. Questa è la realtà, dico sono numeri, è benvenuta qualsiasi opinione, anche contraria per carità al reddito di cittadinanza, ma per favore rimaniamo nella realtà, non insceniamo una dolorosa distopia. Buon mattino.